ragazzi e ragazze benvenuti benvenuti in questo secondo video di unboxing che faccio su questo canale che tra l'altro riguarda esattamente la stessa cosa è arrivato quest'oggi con un giorno di ritardo ma colpa dello spedizionario quindi nessun problema un altro nuovo parco un nuovo razzo che si aggiunge alla collezione che ho di modellini a tema spaziale che ho sto acquistando molto molto contento tra degli acquisti della fattura dei modelli che arrivano da space rocket lab link in descrizione avrete tutti i link c'è tutti uno è un link a riguardo ma avete anche il link al suo canale youtube e al suo canale la sua pagina instagram dove pubblicizza diciamo questo tipo di modellini questo è particolare perché fa parte sempre di una rena starship è un modello molto più avanzato e dettagliato di quello che vedete qua in sfondo che uno dei primissimi che acquistai anni fa ormai non ricordo più neanche quanto tempo è passato sinceramente ed era una flash sale quindi una vendita scontata perché un pezzo leggermente difettuoso ma un difetto di cui sinceramente farò probabilmente molta fatica a vedere e poi diretti già montato mancano solo le alette che sono queste che vedete qui ragazzi queste lette qui laterali se non ricordo male che mi è stato scritto da parte sua che non li ha montate per evitare che vengono distrutte da parte della spedizioniere direi che ha fatto secondo me bene quindi quindi ho già aperto la confezione l'ho diciamo tagliata lungo i bordi cheat va bene a iniziamo con un bel coupon coupon che sposto e aprirò di fianco successivamente di thank you grazie a te space rocket lab ragazzi modellini fatti non di chiaramente a mano ma stampati in 3d sono veramente fighi ora deve essere veramente molto figa questa starship sn24 se non ricordo male che la starship che è andata distrutta nel primo volo orbitale che non l'ha fatto ragazzi è figo mamma mia è fighissima voglio farvi vedere bene la fattura di tutto quello che in mano e non è completa perché mancano le alette con il logo di spacex bsn24 bellissimo con lo scudo termico bellissimo ragazzi non vedo l'ora tra l'altro del prossimo lancio di spacex che dovrebbe arrivare spero entro non credo entro la fine di quest'anno ma probabilmente l'inizio del prossimo è bellissima ringraziamo iphone per il dettaglio di questa di questa videocamera veramente figo ragazzi veramente figo e lo voglio mettere in relazione a questo guardate il cambio il livello che è completamente diverso a parte la grandezza chiaramente più alta e dovrò aggiungere qui ovviamente le alette ma ragazzi boh che dire l'ho sempre ho sempre sognato di avere dei modellini spaziali e eccole qua le alette infatti che dovrò attaccare assolutamente le attaccherò con colla a caldo mi è stata consigliata una colla nazi non colla a caldo non mi ricordo quando capitano queste cose qui diciamo space rocket lab vi scriverà sempre una mail consigliandovi come montarlo perché ovviamente ci sono dei consigli e vi voglio far vedere un'altra cosa perché chiaramente non sono solo loro due lei sono una nuova arrivata a trattato dimenticavo che questo questo modello di starship è già compatibile da quello che è stato proprio detto dal produttore è già compatibile con il modello di booster solido quindi tutta la diciamo la configurazione di starship originale quindi potrei anche in un secondo momento compare il booster solido ad attaccare qua sotto che spoilerino spoilerino che vi faccio vedere anche la fattura dei motori che chiaramente ragazzi è un alto livello perché qua stiamo parlando di produzione avviata da anni anche know how modificato questo è sicuramente un modello ragazzi fatto bene perché non mi dispiace come un modellino di starship era un modello diciamo assolutamente iniziale però ragazzi come la regina rimane lei ovviamente il razzo saturno 5 anzi lui il razzo saturno 5 che è bellissimo io questo l'ho montato tutto io è stata un'avventura ragazzi ma guardate quanto diavolo è grande ovviamente è al che grandissimo è bellissimo questo è un razzo di un intermedio diciamo tra i due perché prima acquista e quello dopo qualche anno acquista e questo di qui se non ricordo male anche di questo c'è il il video sul canale e poi c'è lui chiaramente che però ragazzi io ve lo posso di che mi sta piacendo tantissimo tantissimo è bellissimo gli attaccherò subito le alette qui e qua non vedo l'ora devo trovare la colla che in questo momento non ho ma mi urgeva fare questo video ringrazio ancora space rocket lab che non ha sponsorizzato questo video ci tengo a precisare ho comprato tutti e tre i razzi questo coupon ho già visto un buono sconto che poi mi utilizzerò per salvassandir non sarà difficile fermare questa mia passione che ho tenuto sopita per tanti anni e che ora avendo trovato un rivenditore affidabile un produttore perfetto direi perfetto io consiglio a tutti ragazzi veramente consiglio a tutti questa è la mia collezione ora sono diventate tre diciamo che probabilmente il prossimo razzo è un qualcosa sempre legato al passato magari un passato un po più recente di qualcosa che diciamo a livello spaziale ha cambiato per tante per tanti versi l'economia spaziale di un tempo ovviamente come vedete lo sfondo di casa mia mi interessa relativamente poco ringrazia ancora vedo grazie space space rocket lab cercatelo su internet cercatelo su cercatelo su dove dovete cercare chiaramente su tutti i social quindi anche su instagram e c'è anche un canale telegram ovviamente che non so se libero meno quello di solito libera lui ma lo andate a seguire su instagram gli fate un gran favore spread the world quindi per chi conoscete che ha questa passione si stanno avvicinando sta avvicinando natale quindi mi capite che a tema natalizio regalo del genere se lo dovesse ricevere io sarei una persona super super contenta me li sono regalati io quindi perfetto così alla prossima ragazzi grazie ancora la space rocket ciao ragazzi è di una fattura incredibile è bellissima e favore metti a fuoco e fa non mette a fuoco perché c'è troppa luce come se non sapessi i rudimenti di messa a fuoco e bellissima è enorme ragazzi guardate cosa mi sta e non riesco a chiudere la mano è bellissimo è gigante date anche bellissimo poi è proprio con la configurazione di volo con lo schermo con lo scudo termico grazie bellissimo wow metti qua ultima panoramica di famiglia e alla prossima ragazzi